1. Tu bevi la birra? 2. Tu scrivi romanzi? 3. Tu vuoi la pizza? 4. Tu vuoi i libri? 5. Tu mangi il pesce? 6. Tu comprendi la domanda? 7. Tu sai la verità? 8. Tu scrivi lettere? 9. Aspetti l'autobus? 10. Vivi da solo? 11. Lavora sotto? 12. Vive vicino? 13. Vendi mele? 14. Pranzate insieme? 15. Vivono lontani? 15. Vivono lontani? 16. Vanno a piedi? 15. starviปus? 16.inned. 17. administrator lontani? 21. Grazie.